Dopo due anni di pausa per la pandemia, ritornano i campionati di sì, 24esima edizione, dedicata in memoria a un nostro operatore che era perito, Claudio Maturi, e il 17esimo trofeo Pietro Maturi, che è in ricordo del nostro presidente fondatore di questa associazione. I campionati di sì, la parola campionati sembra un po' grossa, è un momento di ritrovo di tutte queste associazioni che provengono da tutta Italia e è un momento di ritrovo di sì agonismo ma anche di scambio di idee e di ritrovarci così in compagnia. Noi operiamo 365 giorni all'anno in reperibilità, 24 ore su 24, con solo volontari, siamo un'ottantina di volontari da Sant'Antonio a Mavignola a Spiazzo Rendena e poi durante il periodo di maggiore afflusso, in accordo con l'azienda sanitaria, viene attivata anche un'auto sanitaria, appunto con infermiere a bordo, che abbiamo un'auto sanitaria, la prima in Trentino, tutta elettrica, questo è molto importante anche per una questione ambientale, visto che la nostra valle ci tiene molto anche all'ambiente, siamo in un parco naturale, e operiamo, dicevo, da Madonna di Campiglio fino a Tione, ecco, in supporto dell'ospedale stesso di Tione. Ecco, il momento particolare di questo campionato, a parte, diciamo, le gare e i momenti, diciamo, goliardici e così, anche è un momento di solidarietà. Da alcuni anni la nostra associazione, durante questo campionato, raccoglie fondi per poi donarli alle persone che hanno più bisogno o ai gruppi che hanno più bisogno. Esempio, quando c'è stato il terremoto a Visso, abbiamo donato una casetta a Visso, poi la comunità Handicap, di Maro, quando c'è stato il problema di Vaia, abbiamo donato anche una somma e quest'anno abbiamo deciso di donare alla Lega di Tumori, delle giudicarie, la somma che verrà raccolta durante il periodo delle manifestazioni.